E' ovvio che l'interrogante l'ha detto, questa è un'interrogazione che è già più volte come argomento venuta in quest'Aula e ha avuto delle risposte che sono sistematiche e non per volontà politica che manca rispetto a un tema molto sentito e che deve trovare una convivenza ovviamente molto importante soprattutto per quanto è strategica la portualità nel sistema Ligure, ma con una impostazione in più che mi permetto di dire prima di arrivare alla risposta che trova comunque una sintesi positiva rispetto alle esigenze proposte dall'interrogante che è quella di specificare anche che Regione Liguria in questo periodo ha terminato quell'iter che era rimasto purtroppo appeso alla mancata completa riforma del Rio, cioè si è portata a casa anche la rilevazione della qualità dell'aria rispetto agli impegni che oggi noi gestiamo come Dipartimento Ambiente e quindi abbiamo la possibilità di agire secondo quanto diceva il Consigliere De Ferrari, cioè da stimolo al fine di poter valutare quelle azioni che sono atte a poter contenere come dire sempre di più le emissioni con le nuove tecnologie con tutto ciò che oggi ci è permesso e consentito rispetto a questo tema molto importante. Il citato Civitavecchia-Blue Agreement è un accordo volontario fra l'autorità di sistema portuale del Martireno Centro-Settentrionale, la Capitaneria del Porto di Civitavecchia, il Comune e diversi armatori che anticipa sostanzialmente di tre anni alcune misure che sono previste dal 152-2006. In base a questo accordo le compagnie di navigazione si impegnano a far funzionare gli apparati motori delle nave con combustibile per uso marittime caratterizzato da un tenore di zolfo non superiore allo 0,10% non solo durante la sosta in banchina ma anche durante la navigazione, a partire da un'ora prima dell'accesso della nave in porto. Come è noto le reti di monitoraggio sono progettate per misurare le ricadute delle principali fonti di inquinamento fra cui le emissioni derivanti dallo stazionamento delle navi in porto. Questi dati misurati sono anche completati da simulazioni modellistiche che permettono di discriminare, seppure con una incertezza tipica ovviamente per questo tipo di stime, le sorgenti dell'inquinamento che noi andiamo a monitorare. I risultati dei monitoraggi come lei sa consigliere e di queste stime modellistiche che vengono elaborate sono a disposizione per tutti gli approfondimenti ovviamente del caso, sui comitati, sui cittadini, qualunque situazione che volesse essere approfondita. Circa l'opportunità, e vengo al nesso dell'oggetto della sua interrogazione, di promuovere degli accordi volontari nell'ambito della redazione di questo piano di azione anche di Regione Liguria per migliorare la qualità dell'aria. Io credo che sia di cogliere positivamente questo spirito di richiesta di arrivare a un tavolo di confronto con la Capitaneria, con l'autorità portuale e ovviamente con Regione Liguria su questi temi e sugli aspetti anche di materia sanitaria, perché non ci dimentichiamo mai che legato alla tutela ambientale c'è sempre un aspetto di tutela sanitaria che seppur legata a un altro dipartimento non di mia competenza, deve assolutamente vedere coinvolti i due dipartimenti insieme, quindi direi l'opportunità di promuovere degli accordi volontari in questo senso che mi sembrano oltre che condivisibili anche auspicabili, se ce n'è la volontà ovviamente delle parti che devono eventualmente siglarli, su un tavolo di confronto che Regione Liguria farà, a cui ovviamente chiediamo e chiederemo di partecipare anche a chi di quest'Aula ne vorrà fare parte e credo che sia lo strumento migliore oggi in possibilità di Regione di poterlo anche realizzare oltre che promuovere, perché abbiamo fatto questa azione importante che è stata quella di portarci in casa la rete di monitoraggio, io direi anche con un pizzico di, come dire, non solo di volontà politica ma anche di coraggio istituzionale, perché è chiaro che metti in casa un sistema di reti che va sempre aggiornato, un sistema di valutazioni che spesso deve trovare una mediazione fra gli interessi commerciali e ovviamente l'interesse della salute dei cittadini che deve venire prima di tutto, e credo che sia comunque un percorso fatto con grande trasparenza, che spesso ha trovato delle risposte che sono state ripetitive nel tempo, ma perché le competenze sono molto chiare. Oggi possiamo parlare di una competenza in casa rispetto alla rete di monitoraggio che ci consente, in risposta positiva alla sua interrogazione, direi al rientro, come dire, del periodo estivo, di convocare questo tavolo nella speranza che poi gli attori principali vogliano in sintesi di quanto fatto anche da altre parti poter agire in questo senso. Grazie.